Continua il giro del candidato alla camera per il collegio uninominale di Marsala in provincia di Trapani, Antonio Ferrante, per conoscere il territorio. Oggi siamo venuti a Bosco Scorace, distrutto dalle fiamme lo scorso 18 agosto. Quali sono le impressioni? Il senso di defrazione è grande, il senso di dolore è grande, perché questo è un polmone della Sicilia prima ancora che di un territorio ed è chiaro che bisogna ripartire e ricostruire, in questo senso io ringrazio il sindaco per il suo impegno, mi associo a qualunque tipo di richiesta di procedere quanto prima alla ricostruzione, in questo senso credo che l'unico colore che c'è purtroppo qui è il grigio della cenere, non ci può essere un colore politico che divida una comunità sulla ricostruzione, per cui da parte mia qualora fossi eletto ci sarà la massima disponibilità, la massima collaborazione con tutte le amministrazioni locali e regionali di qualsiasi colore perché si possa immediatamente ricostruire questo posto, ricostituirlo perché e soprattutto come ha detto prima anche il sindaco potenziare i mezzi di intervento perché non c'è dubbio che qualcosa non ha funzionato e non è pensabile che ogni anno ci troviamo a affrontare l'emergenza incendi mentre stiamo in mezzo alle fiamme, l'emergenza incendi va affrontato a livello regionale, a livello nazionale quantomeno a inizio anno, in questo senso è un impegno che prendo come parlamentare di questo territorio a far sì che si potenzino i mezzi di intervento, si potenzi la prevenzione e si sostengono quei sindaci su cui territori insistono queste bellezze perché non possono mai essere lasciati da soli.